Ciao a tutti amici di Romaview, bentrovati, eccomi qua di ritorno con un nuovo unboxing ed oggi andiamo a scoprire la Steelbook di Godzilla Kong, il nuovo impero, il nuovo capitolo della saga dei mostri della Warner Bros che arriva in edizione Steelbook con alcune varianti, io vi presento questa in colore bianco ma ce ne sono altre tante attenzione che stanno già andando fuori catalogo, possiamo notare che ci sono una bella sfilza di extra, sono veramente veramente tanti e poi come al solito questo è un titolo di punta per la Warner Bros e quindi abbiamo anche un audio italiano in HD nulla da dire, quando ci sono questi titoli la Warner non ci delude una volta che poi andiamo ad eliminare il fogliettazzo possiamo scoprire la fattura di questa Steelbook da una parte abbiamo Kong con il suo zampone, dall'altra parte abbiamo Godzilla con il suo zampone una volta a figura intera, eccola qui, niente male, elegante, nulla di straordinario ma veramente carina e poi all'interno abbiamo anche lo zampone con la fascia del cattivone del film a me devo dire che non è dispiacito questo film, è certo livelli bassi di sceneggiatura ma a me basta che semenano i mostroni disco Blu-ray che si vede molto bene e poi abbiamo ovviamente il disco da riferimento che è quello 4K che vi straconsiglio ovviamente di preferirti e poi per finire c'è anche una bella stampa interna questa è una Steelbook che trovate un po' ovunque io non ricordo se il suo Amazon è ancora disponibile se lo è vi lascio il link in descrizione se vi è piaciuto questo video mettete un bel like se vi fa piacere iscrivetevi al canale e a te la campanella per restare sempre aggiornati su Scegli dei prossimi Unboxing e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti